Sì, 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 siamo noi, siamo i radioculi, e che bella gioia, che bel divertimento far la radio, che bellissimo questo filo che mi viene dietro, e vogliamocelo fare tutti quanti un po' in mano oggi, vogliamo che tutti ci divertiamo un po' oggi, con i nostri dischi gay, con la musica nostra del movimento fuori, primo posto oggi, siamo i figli delle triglie, cantata da tru 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 tru, e al primo posto ancora i sequio, pieno moncollo, cantato da Gennaro Pietroporchi spiezzatito, un gay napoletano, ci fa sempre comodo uno del sud, il problema del mezzo Giorgio, e al settimo posto, Amanda Lur, con trucchami gli occhi che ti vengo addosso come un tram, al 103 che è entrato adesso, poverino, fatelo entrare, che ha fatto entrare, che c'ha freddo, il famoso cantante folk, Zucculone, è entrato su De Potenza, mi fa ridere perché lo conosco, mio amico, è del mio quartiere, abita vicino a me, l'ho fatto entrare io di forza, mi ha dato una mossa l'altra sera, che giugiolone, voglio mandargli un bacino questo qui, e adesso ancora, al quarto posto, il guardiano della faccio, è entrato anche lui, che bello, diamogli una sbazzuta questo qui, strappazziamolo, bravo faccio, credo che si chiama Adele di nome, ed ecco qui, tutti insieme, vogliamo fare un pizzettino oggi, vogliamo fare un pizzettino oggi, ditevi di sì, telefonatemi, telefonatemi, numero nostro è 100, telefonatemi, telefonatemi, Siamo noi, lo pittiamo il culo tutto il giorno, siamo noi, siamo allegri, siamo dosti, siamo duri, E per concludere, ci vediamo tutti questa sera al nostro locale, il pidocchio d'oro. Sì, ce lo facciamo scoppiare in mano questa sera, ci sono anche i premi con The Home, Da Rannunce Viputelle